SIGLA Guarda, come si chiama? Esce Peppa Gallo. Lo possiamo ammirare da così vicino? Io direi troppo da vicino. Orribilmente da vicino. Jane, che stai facendo? Stiamo cercando di salvare il mondo. Ispirato alla missione della dottoressa Jane Goodall. Qui non stiamo giocando. Se riusciamo a comprendere le specie in via di estinzione. Allora possiamo aiutarli. Esattamente. Andiamo. Stuffatevi nell'avventura. Oltre ogni vostra immaginazione. La natura può vincere se le diamo una possibilità. L'ha detto Jane Goodall. Tutti possiamo contribuire a salvare il mondo. Dove andiamo? Verso la prossima avventura. Jane! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.